Anteprima all'insegna della memoria e del calcio quella della seconda edizione del Picencia Short Festival, chermesse internazionale dedicata ai cortometraggi che come nel 2017 si tiene a Monte Corvino Rovella. Protagonista assoluto del giorno zero della manifestazione che aprirà ufficialmente oggi i battenti, il docufilm Volevo Essere Imbriani, scritto e diretto da Umberto Rinaldi e dedicato all'ex calciatore del Napoli, deceduto nel 2012 a 37 anni dopo una lunga malattia. Oggi apertura di festival in grande stile con lo sbarco in terra picentina di Sierra Foster, attrice americana che ha recitato in alcune delle principali serie tv e film americani di successo. Una madrina d'eccezione per l'avvio del concorso Vero e Proprio, che oggi vedrà il genere horror e thriller al centro della scena con sette corti in gara.